serve uno smoker qua lo metterò qua per copiarmi la mia mappa sapete cosa dovrebbero mettere su Valorant di carino? un sistema quello dell'honor di lol non dovrebbero mettere secondo me per le ranked aiuterebbe molto ma in me ci starebbe come quello di Overwatch lasciamo se il sistema di ranked di Overwatch che fa pietà non si sa che hanno combinato col 2 ormai tutti i sistemi di ranked sono fucked una kill roll tipo Overwatch su un gioco del genere non si gioca sempre con dei ruoli prefissati ragazzi no non avrebbe senso una kill roll su Valorant ragazzi dammi know when he won't flash no 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 not that you're a flash sky they're coming sand 42 piper c'è se posso dirti la verità non mi interessa se hanno nerfato what the fuck no way am playing with this guy bro non mi interessa se hanno nerfato la non mi interessa se hanno nerfato le massi non dovrebbe esistere le massi su mouse e tastiera fatta per far smirare i giocatori con mouse e keyboard ragazzi non mi interessa sì sì let's go to her and if they come we push step A main only one two A main and if he's back I don't know if he's back I think I hit him once I think I hit him once they're retreating spike planted spike planted? tower 1 tower 1 main 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 2 tower 3 2 tower 見ushi,見David 110 died Luciano, Luciano Renia, veniamo con me veniamo con il Cyrus non è proprio questo veniamo, Renia! Renia? ok 1 send test test 10 b 10 b ok 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 Stop, 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 stop You don't need that No, ma io il mio La flash ha presa dritta in bocca, proprio full Crosshair placement, si Non è jump shotato, appena ho messi i piedi a terra ho sparato No I can flash sky Flushing Non ci vedo che a brown Non ci vedo il person Non ci vedo il person Non ci vedo il person Ci vedo che non ci vedo can you wait for me? i'm really low two sides less below i get low what the fuck i just sprayed this kid yo sky i couldn't watch i couldn't watch it anymore because they threw so many stuff so i was trying to help you the queen is spanish, right? and who else? i did nothing what? damn damn i'm pushing what viper was done? i fall to sky sbagliato a pushare così arena default cadò cadò tutte e due dentro ma abbiamo perso quest'eco c'è a b? i don't know i think it's b no idea no one? 2-2-2-2 i'm rotating 30 seconds left i'm going with brim no one here it's high, it's high, it's high one left, one behind the wall hunter one after one... porco porco non gli vedevo mai la testa attimando la flash ho detto vabbè mo la tirerà niente solido sto brim ma comunque solidissimo e vai per uguale il mezzo che sono ragazzi faremo questo braccire qui braccire qui ram pote è questa, è questa ragazzi la te amo Isabel, grazie mille non preoccupi istenuti perché non fai più live video tanti di warzone in che senso ci gioco più da mesi Cosa giochi ulti a valore di recente? Ooooooh Tutto inizio sto giocando solo Tarkov, Valorant e poi qualche single player o qualche gioco che mi godo io off stream Mazzica quattata allucinante I got mault so we can play retake Cosa Per lo sviluppo Ah s*** Gugger게 WTF, WTF WTF Come uno di biassi? No di biassi Sky get close to the door se vanno in game main i'm gunna ultimo e i'm gunna push together from sand wall viper b turn side sorry dude i can't see anything i can't see anything yeah there is the wall shit i thought you destroyed the wall guys next time you tell me i'll go out you're right you're right it's okay it's okay yeah just next time please destroy the door i'm sorry i just took four of them behind you behind you it's fine it's my bad it's my bad sorry jet booooo cioè qua perchè non hanno distrutto il muro subito ci sono riadolo sbattuto addosso al muro ma tanax quello era warzone 1 hai sbagliato gioco non warzone 2 l'abbiamo fatto i contenuti infatti poi ho smesso di portare warzone 1 non i don't i don't have info sondern non non si 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 B? Fast B? I'm gonna go under Wait Toskai, c'è uno B A Can you wait for me guys? One enemy remaining One enemy remaining Blush off Oh boy Madonna, ma che figo è Madonna, che figo Ok, I'm gonna dash site With smoke Uhhh What about I try to fake with my You can also Uhhh I'm gonna stun a main, ok? Yeah, yeah But stun like this So I can dash Yeah, yeah But stun like this He's there somewhere Watch out, they have one way, they have one way Go back, go back, go back, they have one way Only one on site Go, 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 go Nice, nice Shit What? LOL He fucked up You're losing this, right? Nah, you're back To be sure It's still shit Good Ok, so green The two of the first The other one No more answer After I said He's dead Poor guy He's dead What the fuck? Run and down Yeah, of course Non ho aspettato l'oggetto dietro Peccato per questo round Oh ma Oh ma Oh ma Oh ma è in tower Guardate la tower Guardate la tower Guardate la tower Bro è la mia sky Ah la mia sky è al cimitero Ciao ciao Non so se possono passare Guardate la tower I can ultimo No, 3,2,1 Go Jet, go Jet Close close nice è il meta l'ultimo, c'erano due questo adesso è di A che bello oh go 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 refack, refack, fast guys, why are you not with us? we need you to come with us kai, you're an initiator you have a spike, ok pazzo what the fuck is this guy yeah can you buy me? sure dude did you stun them both? sure sure, what? did you stun them both here? only, yes i stun two oh fuck no, only one, only one, only one, sorry obrigado la dip della stinger, no, 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 ancora le stinger fuck you my world enemies for the thing still in front still in front no no the angel's dead we don't have a spike, we don't have a spike no one pushed no 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 wait 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 let me flash let me flash I can't stand I can't stand whoohooo brim brim push them push them wait 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 for brim brim push yeah yeah we'll be waiting there's both, both no fucking way fuck uh oh please i can bet for someone, i'm gonna play ult i'm stumbling my ear fake 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 wait 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 è rotato, rotato, rotato rotato, rotato, ronald ok, rotato 3 o no 3 o no 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 chamber minus 65 ah f***** è diventato cieco però quando nice B main, B main, B main buon job non è subito, non c'è un cazzo Fass B Fass B? ok vuoi che mi staggoi a staggo? o dove vuoi staggo? sai cosa vuoi? vuoi che vuoi? vuoi che vuoi mi comprovi sicuramente mi sono ok dove vuoi staggo? ok dove vuoi staggo? ok ok mi staggo mi staggo mi staggo mi staggo ok you want to play let's play right side right side right side right side right side e blot e blot e blot e blot e blot e blot a blot Minus 8 Ma porco 2 Oh Ho capito niente Perché non giochi via Rust? Mi piace Rust In verità sto cercando di trovare qualcosa da fare Ora con Casey E con Gennaro per giocare A Rust A me il gioco piace tanto Rust E' veramente figo Grazie a tutti